Ciao amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare della coperta isotermica, detta anche metallina. Vi spiegherò come si usa e faremo anche qualche test e in più vi dirò qualche piccolo trucchetto per usi alternativi. Se vi interessa rimanete con me. Andiamo. Allora amici, ho fatto questo video per due motivi. Il primo è perché la coperta isotermica, detta anche metallina o coperta in mylar, è un oggetto che non basta comprarlo e inserirlo nello zaino o nel kit di emergenza. Ma bensì bisogna saperla usare, amici, ok? Perché non è così scontato l'utilizzo della coperta isotermica. Ma è importante che ne compriamo due. Una da conservare ovviamente nel nostro kit di emergenza o nello zaino durante le nostre uscite e la seconda invece la andiamo ad aprire, andiamo a testarla, a provarla proprio per vedere come funziona. È molto importante anche capire come funziona questa coperta isotermica. Altrimenti ci troviamo in situazioni magari complicate e non sappiamo il reale utilizzo o cosa andiamo incontro utilizzando la metallina. In secondo luogo, amici, mi è capitato molto spesso, sia parlando con le persone ma anche vedendo video su YouTube, di ascoltare alcune informazioni errate. E anche qui io vorrei un attimino spiegarvi come stanno realmente le cose. Ma ora, prima di tutto, andiamo a vedere di cosa è composta la coperta isotermica. Allora, amici, questa è la classica metallina, ok? Di questo tipo, che poi alla fine è quello più economico, come vedete in commercio esistono varie misure, le fanno in varie misure. Io di solito quello che prendo è quella più grande, 160x2,10, proprio perché mi permette di coprirmi meglio e di fare anche altre cose. Ora, amici, andiamola ad aprire e vediamo di cosa è fatta. Fate molta attenzione perché è molto delicata, quindi abbiate un pochino di delicatezza. Come vedete, la coperta termica è uno strato veramente sottile di alluminio, ok? Parte interna argentata, parte invece esterna dorata. In realtà la coperta termica è composta da tre strati, ossia parte centrale è in alluminio, parte esterna polietilene pereftalato, che una volta accoppiato con lo strato di alluminio assume proprio le sembianze metalliche di color oro, come vedete. E invece sotto viene applicato uno strato di polietilene trasparente, che infatti è color argentato, proprio perché lascia passare il colore dell'alluminio. In commercio, oltre la grandezza, possiamo trovare anche delle coperte come questa, di diverso colore. Per esempio per uso civile possiamo trovarla dorata e argentata, come questa qui. Possiamo trovarla argentata e di color rosso acceso, oppure possiamo anche trovarla argentata e di colore mimetico. Questo è per gli ambienti azioni militari, però, perché ovviamente magari per un soldato che ha bisogno di coprirsi e di utilizzare la coperta termica, allo stesso tempo deve mantenere un basso profilo e non deve essere avvistato. Solo in ambiti militari, ovviamente. In commercio possiamo trovare delle coperte isotermiche, molto più costose, ovviamente, ma allo stesso tempo molto più robuste. Addirittura alcuni modelli sono super rinforzati e si possono veramente riutilizzare all'infinito, perché hanno una parte argentata e un'altra invece proprio di telone, diciamo, di plastica e quindi è molto resistente. Questa qua si può dire che è quasi monouso, ok? Dico quasi proprio perché si potrebbe anche riutilizzare, ma per via della sua delicatezza di solito è monouso. Un'altra cosa, queste copertine, una volta aperte o utilizzate, se vogliamo ripiegarle per metterne il suo sacchettino originale, sicuramente non ci riusciremo, perché sono piegate da dei macchinari che tolgono proprio l'aria dall'interno e in questo caso, una volta aperta, non riusciremo più a inserirla nel suo sacchettino. Però comunque possiamo piegarla. Allora, come funziona la coperta termica? Lo scopo della coperta termica è ritenere il calore che viene generato dal nostro corpo. Da sola, di per sé, non scalda e in più, grazie allo strato argentato, è in grado di riflettere il calore che viene generato per il radiamento dal nostro corpo verso noi stessi. Si dice che una volta coperti con la metallina è possibile conservare circa l'80% del calore corporeo. Si usa normalmente in situazioni di emergenza, la utilizzano gli escursionisti, la utilizzano chi fa trekking lunghi, specialmente in luoghi freddi, ma anche chi fa viaggi in macchina in luoghi freddi, perché magari si può avere un'avaria al motore e in quel caso rimanere freddi in quei posti, la copertina sicuramente ci torna molto utile per tenerci caldo. Poi, come abbiamo detto prima, viene utilizzato anche dai militari, ma anche dagli operatori del primo soccorso. Infatti, quando vediamo a volte in televisione i sbarchi degli immigrati, la prima cosa che fanno è che gli mettono attorno queste metalline proprio per proteggerli da l'ipotermia. Ma ora andiamo a vedere come si usa in emergenza per contrastare il freddo e l'ipotermia. Allora amici, in che situazioni utilizzare la metallina? In tutte quelle situazioni che abbiamo magari freddo e non siamo preparati a quel tipo di temperatura e abbiamo bisogno di conservare il nostro calore corporeo, sicuramente la metallina ci tornerà molto utile. Facciamo per esempio un'ipotesi che siamo degli escursionisti, ci perdiamo, però magari siamo anche riusciti a contattare i soccorsi, ma nel frattempo che i soccorsi ci trovino e ci portino in salvo potrebbero passare magari diverse ore e in quel caso la metallina ci tornerà veramente molto utile per conservare il nostro calore corporeo. O magari anche perché durante l'escursione abbiamo preso dell'acqua e cominciamo a sentire freddo, anche la metallina in quel caso ci può venire veramente comodo. Ma anche nell'ipotesi peggiore in cui magari, ecco, dobbiamo passare la notte fuori, una notte fuori non prevista e non siamo equipaggiati per passare la notte, sicuramente anche lì in quel contesto la metallina ci può tornare veramente molto utile. Prendiamo come esempio la prima ipotesi, quella che dobbiamo stare fermi e aspettare i soccorritori. Prima cosa è quello di trovare un posto sicuro e neanche troppo nascosto perché comunque i soccorritori ci devono trovare. Quello che dobbiamo fare è trovare un posticino comodo, mettere il nostro zaino magari di fronte a un albero che l'albero è molto comodo per appoggiarci poi la schiena e aspettare. Mettiamo lo zaino nostro a terra e noi ci sediamo sopra lo zaino. Se non abbiamo neanche lo zaino perché magari stiamo facendo solo una passeggiata e abbiamo magari giusto il minimo indispensabile addosso, possiamo comunque sfruttare della corteccia, possiamo sfruttare anche dei legni messi per lungo. Insomma il concetto è cercare di stare quanto più isolati dal terreno in modo da non fare conduzione e respire poi così il freddo dal suolo. In questo caso come test, siccome ho avuto la fortuna di trovare un pezzo di tronco d'albero abbattuto, cercherò di trascinarlo di fronte l'albero. Ecco qua, la seduta è comoda. Ok? Poi se ne abbiamo l'opportunità, io durante le mie uscite porto sempre un cuscinetto del genere in spugna leggerissimo, alto più o meno un centimetro, è veramente comodo perché con questo possiamo sederci dovunque e possiamo isolarci dal freddo e non entrare in contatto direttamente con il suolo o con l'umidità, come può essere anche una roccia. Ok? Eccoci qua. Comodo. Possiamo anche appoggiarci tranquillamente. Prossimo passo. Ora amici, mi sono messo in maglietta proprio per percepire di più l'efficacia della copertina termica. Allora, con calma, con delicatezza l'andiamo ad aprire. Partiamo da sopra, da un lato di sopra e l'apriamo così. Vedete? Anche l'aria ci può aiutare un pochettino ad aprirla. Se c'è un po' di vento ci torna comodo. Cosa importante amici? Parte argentata all'interno, quindi a contatto con il nostro corpo e parte dorata invece verso l'esterno. Ok? Molto importante. In caso di caldo al contrario, ma dopo andremo a vedere. Ve lo spiego meglio. Poi, una volta aperta, cosa facciamo? Prendiamo un lato, un altro lato e fondamentalmente ci avvolgiamo. Facciamo capitare la copertina, se possibile, anche sotto di noi. Ecco qua. E ci sediamo. Voilà. Quello che dobbiamo fare è cercare con la metallina di avvolgerci il più possibile. Ecco qua. Ci siamo. In effetti, amici, solo dopo qualche minuto che si sta all'interno si sente già proprio una differenza proprio abissale con e senza la coperta. Quindi già così percepisco proprio il calore che si accumula all'interno della metallina. Poi più riusciamo a coprirci bene e a ridurre, a ranicchiarci il più possibile proprio per ridurre lo spazio all'interno, più sentiremo caldo. Allora, amici, un'altra cosa. Non teniamoci chiusi completamente perché altrimenti il nostro respiro farà condensa all'interno e creerà delle gocciolini, quindi rischieremo di peggiorare la situazione. Naso e bocca conviene tenerli fuori e coprire il resto del corpo in questo modo. Poi ci possiamo anche appoggiare all'albero per essere più comodi e attendiamo i soccorsi. È molto importante anche coprire la testa perché comunque si perde parecchio calore dalla testa. Poi se abbiamo la possibilità, perché magari siamo in un bosco, abbiamo la possibilità di accendere un fuoco di fronte a noi anche piccolo, sicuramente ci aiuta tantissimo. Ma a quel punto la coperta termica non conviene più chiuderla completamente ma tenere almeno la parte frontale aperta, anche magari con due legnetti, in modo che il calore irradiato dal fuoco possa rimanere intrappolato e riflesso all'interno della nostra coperta termica. Noi amici, veramente comincia a fare caldo qui dentro. Ora, la temperatura esterna sono più o meno di un 14-15 gradi e dentro sembra che ci sono 25 gradi. Allora amici, un altro piccolo trucco che ci torna comodo è quello di unire insieme alla coperta termica, anche un paio di quelle candeline piccoline, stile Ikea per i diffusori, per capirci. Perché questo, utilizzando questo sistema, cioè si mette una candelina tra le nostre gambe e si chiude, in pratica ci chiediamo con la coperta, mantenendo la candelina al centro. Questo sicuramente aiuterà a aumentare i gradi all'interno della coperta isotermica. Ma adesso andiamo a fare qualche test insieme per vedere in effetti che guadagno di temperatura abbiamo. Io ho in questo caso una candelina un po' più grande, però l'effetto dovrebbe essere lo stesso. Ora sta avvenendo notte, quindi le temperature si stanno abbassando notevolmente e quindi questo mi aiuterà a capire meglio in effetti che differenza c'è tra prima e dopo. Andiamo! Allora amici, una volta che ci siamo coperti con la nostra coperta isotermica, possiamo accendere la nostra candelina e metterla qui, tra le gambe, in questo modo, ok? Facendo ovviamente attenzione che i pantaloni non vadano troppo a contatto con la fiamma, altrimenti ci bruciamo, ok? E la stessa cosa vale anche per la coperta isotermica, non deve stare vicino ovviamente alla fiamma. E già così funziona, ma ora vi farò vedere un piccolo trucchetto che migliora la sicurezza. Andiamo! Ora amici, se ne abbiamo la possibilità, possiamo anche prendere qualche sasso, in modo che la candelina stia così, all'interno di queste barriere, diciamo, ok? E possiamo fare questo lavoro qui. Ecco qua! E la candelina andrà all'interno. Poi, una volta accesa la candelina, poi possiamo anche, una volta accesa, mettere un sassetto sopra, in modo che la fiamma va a scaldare il sasso e quindi avrà una maggiore diffusione di calore, ok? Invece di avere un punto caldo dritto, andrà a scaldare la pietra e quindi farà effetto diffusore. Ora amici, mi sono messo in camicia per percepire meglio la situazione, ok? Comunque, ho due termometri, uno che sta all'esterno e uno che invece lo terrò all'interno con me, per capire un po' che differenza di temperature. Ok? Allora, siamo a 14 gradi, quello segna 13,5. Vabbè, c'è mezzo grado di differenza, ma comunque per capire come va la situazione, ok? Mi copro bene, senza accendere la candelina, facciamo un test così prima, metterò il termometro vicino a me in questa posizione, ok? Senza metterlo a contatto col corpo perché altrimenti si falserebbe il test. Ora aspetteremo, aspetterò così per un po' di tempo e vediamo un po' la situazione e come migliora. A livello esterno adesso la temperatura sta scendendo, quindi andiamo a percepire anche di più la sensazione che c'è di differenza tra dentro e fuori. Allora amici, sta avvenendo buio e sono 20 minuti che sono qui fermo, quindi andiamo a vedere un po' la temperatura. Ragazzi, guardate un po', vi faccio vedere, ci sono 24 gradi e 6, ok? qua invece ne segna 11,5, quindi l'esterno 11,5 e 24,6 all'interno della coperta isotermica, quindi una differenza veramente sostanziale, ok? E questo l'ho già percepito nei primi minuti che ero all'interno della coperta e sentivo che mi riscaldavo veramente tanto in pochissimo tempo, quindi già in soli 20 minuti ho visto che il termometro saliva proprio rapidamente fino a toccare i 24 gradi e mezzo, via, ok? E fuori invece ci sono 11 gradi e mezzo. Ma ora andiamo a fare lo stesso test, continuando, però faremo 20 minuti con la candelina accesa per vedere un po' quanto guadagniamo in più in proporzione all'esterno. Bene, aspettiamo un po' e vediamo un po' cosa succede. Ora è quasi notte, quindi usciamo e andiamo a vedere i gradi, quant'era all'interno, vediamo un po' se ve li riesco a far vedere. Come vedete sono 26 gradi, ok? Ora andiamo a vedere anche quello esterno, vediamo un po' se si riesce a vedere. Vediamo un po' con un po' l'accendino, sono, ecco qua, è caduto anche, vediamo un po', 10 gradi, ecco qua, 10 gradi e 6. Abbiamo, diciamo, con la candelina guadagnato quei 3-4 gradi, ok? Però ho notato anche un'altra cosa, che sicuramente più tempo rimaniamo più il calore all'interno si riesce ad accumulare, ok? Ho stato solo una ventina di minuti per vedere, ma sicuramente se stiamo di più il clima si riesce a riscaldare ancora un pochino. Poi, comunque, ho notato anche un'altra cosa, ora vi mostro, che conviene comunque mettere un sasso molto sottile, in modo che la candela riesce a riscaldarlo subito. Un sasso così spesso come questo qua non conviene molto molto, o perlomeno conviene coprire la candela per metà, non completamente, in modo che comunque venga riscaldato il sasso sopra, però anche il flusso del calore della candela possa salire verso l'alto, ok? Quindi, se fosse un sasseno sottile sottile e che si riscalda molto velocemente, allora conviene, altrimenti conviene lasciarla leggermente aperta in modo che il flusso e il calore della candela possa salire. In più, la candelina ci torna veramente molto comodo, ho notato, che all'interno possiamo avvicinare le mani e scaldarcele, ragazzi. Quindi, anche questa non è una cosa da sottovalutare. Avere una piccola candelina che ci dà la possibilità di scaldarci anche solo le mani, vi devo dire che è tanta roba, ragazzi. Me ne accorgevo prima, quando ero dentro, all'interno, che fuori faceva freddo, ma tenendo le mani al caldo vicino alla candela era tanta roba, ok? Un'altra cosa, sicuramente possiamo soffrire di piccoli accorgimenti nella coperta isotermica per chiuderci ancora meglio, perché ho visto che non riuscivo a chiudermi proprio bene, ok? E ora vi mostro. Allora amici, ho visto che ieri 3-4 gradi siamo riusciti a recuperarla con la candelina, però secondo me potevamo fare di più se solo con un po' di nastro americano avrei chiuso praticamente tutto il bordo, cioè in questo modo qua, in modo da creare una specie di sacco, ok? Quando una volta è tutto chiuso e lo andiamo a inserire sopra di noi e abbiamo completamente sigillato il tutto, sicuramente la dispersione di calore è molto minore e di conseguenza sicuramente qualche grado in più lo riusciamo a recuperare. Un altro consiglio molto importante è quello di, prima di utilizzare la coperta, di fare un pochino di movimento, ok? Un po' di squat, un po' di corsetta, in modo da scaldare il nostro corpo, che quando poi andiamo a coprirci con la mantellina e sederci, il nostro corpo sarà già bello caldo e quindi creerà molto più rapidamente quel microclima caldo all'interno della coperta isotermica. Quindi anche questo è un consiglio molto importante da non trascurare. Poi un'altra cosa, quel sistema che vi ho fatto vedere di stare seduti è solamente per una situazione in cui noi abbiamo già allertato i soccorsi e quindi ci stanno venendo a cercare o a recuperare, ok? Quindi si tratta di una posizione in cui dobbiamo stare solo alcune ore e quindi dobbiamo aspettare lì con pazienza. Ma se dobbiamo passare una notte, amici, quella posizione, vi assicuro che potete fare qualsiasi cosa tranne che dormire, perché è una posizione veramente scomoda, quindi passare tante ore sicuramente non riusciamo a dormire, prenderemo crampi, cominceranno dolori per tante ore così purtroppo e quindi sicuramente sarà una pessima notte. Non moriremo di freddo ma sicuramente sarà una notte terribile. Al contrario ci sono altri sistemi che secondo me sono migliori per passare una notte calda e comoda. Allora amici, se poi abbiamo bisogno di utilizzare la coperta termica per fare un rifugio di emergenza o anche delle configurazioni tipo il tarp oppure un tettuccio, roba del genere, abbiamo bisogno per forza di ancorare del cordino agli angoli. Ok? Però siccome la copertina è molto fragile, io vi consiglio questo sistema. Per farlo abbiamo bisogno ovviamente del cordino, se abbiamo la possibilità delle piccole galle di quercia, ok? O delle piccole ghiande. Queste vanno veramente bene. Se non abbiamo questo materiale possiamo anche utilizzare dei semplici sassetti il più rotondi possibile e anche con questi funziona alla grande. Ora vi faccio vedere. Ora la prima cosa che andiamo a fare sul cordino è creare un nodo scorsoio, semplicemente facendo un nodino sopra al dormiente, anche con un fiocchetto anche meglio. Ora vi faccio vedere. Ecco qua. Un qualsiasi nodo scorsoio, ok? Che quando si tira si stinge. Fatto questo, prendiamo per esempio il nostro sassetto, lo mettiamo al centro dell'angolo, in questo modo. Ok? Poi prendiamo lo scorsoio e andiamo a stringerlo. Ecco qua. In questo modo. E abbiamo un ancoraggio e una volta tolto possiamo recuperare la nostra coperta senza strappi. Un consiglio che vi voglio dare per rinforzare gli angoli della coperta isotermica è quella di abbinare insieme proprio alla coperta del nastro telato, tipo duct tape, ok? Per capirci. Questo che utilizzo è della T-Rex, secondo me uno dei migliori in commercio. Veramente buono, resistentissimo e ha una colla veramente resistente. Ma ora andiamo a vedere come rinforzare gli angoli col nastro telato. Ora, una volta tagliato un pezzo di una decina di centimetri, ok? Di nastro, quello che faremo è trovare dei piccoli stecchetti di legno di 2-3 mm, ok? Circa. E li andiamo a collocare giusto al centro della striscia. Ecco qua. In questo modo. Ok? Dopodiché cosa facciamo? Prendiamo un angolo e appoggiamo così. Ecco qua. Ok? Lo incolliamo per bene. Poi pieghiamo a metà proprio dove è il bastoncino. In questo modo. E incolliamo il resto. Ecco qua. Vedete? È sufficiente. Qui abbiamo il legnetto. Ora qui, proprio davanti al legnetto, faremo un piccolo forellino giusto per far passare il cordino. Ci appoggiamo sopra un pezzo di legno e facciamo il forellino. Facciamo passare un legnetto per allargare. Et voilà. Ora possiamo fare la stessa cosa a tutti e quattro gli angoli. Ma adesso andiamo a vedere un bivacco d'emergenza. Andiamo.